A Quincy è accaduto qualcosa di brutto, e sono sicuro che ne avrete già sentito parlare, perché a Concord, appena iniziato il gioco, ci viene già anticipato quanto avvenuto. Il problema è che poi tutta la storia principale vira in altre direzioni, e della Lord di Quincy ce ne si dimentica facilmente. Quincy, patria di... Dammi un minuto. È stato lì che i Minutemen hanno tradito se stessi, e le persone che dovevano proteggere. Ero con il gruppo del colonnello Hollis, un manipolo di mercenari chiamati Gunner attaccò Quincy. L'agente del posto chiese aiuto ai Minutemen. Noi fummo gli unici ad accorrere. Gli altri gruppi voltarono le spalle sia a noi, sia agli abitanti di Quincy. I Minutemen hanno cercato di resistere come potevano, ma infine i Gunner erano davvero troppo forti rispetto a loro. Siamo passati accanto a Quincy nel video riguardo Billy, il ragazzino nel frigorifero. Gli abitanti di insediamenti nel Commonwealth, se andremo in giro ad aiutarli a volte, diranno proprio che non si aspettavano che i Minutemen stessero ancora in piedi. Preston vuole infatti ristabilirli, e per farlo chiede aiuto a noi. In maniera, come sapete, molto insistente. A Concord troviamo cinque persone, Preston, Sturges, Mama Murphy, June e Marcy. Ve li mostro così do delle facce ad alcuni degli individui di cui parlerò. Vagando con la telecamera sopra Quincy si capisce quanto complessa sia la città. Vi mostro già anche i Gunner responsabili del massacro avvenuto. Conosceremo Tessa, che indossa un'armatura atomica. Lei precedentemente stava con i predoni. Poi c'è un certo Clint, che si dà il caso sia il capo qui. Anche lui ha un'armatura atomica, e ciò non ci aiuterà affatto a vendicare i Minutemen per Preston. Baker è quello nella chiesa, che attacca con armi molto pesanti. Sicuramente ricorderete i suoi fastidiosi missili. Ah, forse mostrandovi Clint, avrete fatto caso all'autostrada che passa sopra la città. Negli anni prima della guerra, uno strano piano di costruzione ha portato a questo risultato, ora utile per dare protezione ai Gunner. Entrati nella città, faremo caso a tutte le case, negozi e costruzioni che ci sono. Anche i tetti sono collegati tra loro e permettono ai Gunner di attaccarci da tutte le direzioni. Dicevo, le persone che troviamo a Concord ad inizio gioco vengono da qui. I fatti sono successi circa un mese prima che noi uscissimo dal Volt 111. Quindi qui a Quincy ci sono ancora le loro cose e le loro case. Ad esempio c'è l'abitazione di Mamma Murphy con tanto di lettera e droghe, che servivano per avere le sue visioni, come ben sappiamo. Visioni utili anche all'epoca dell'attacco alla città. Lei, infatti, lo aveva previsto. Non tutti a Quincy le credevano, ovviamente. Era vecchia e pazza per molti. Ma Sturgis ha rimarcato che le sue visioni solitamente si rivelavano vere e quindi per prevenzione riportò insieme ad altri ciò che Mamma Murphy aveva visto al sindaco Jackson, che saggiamente chiamò in aiuto i Minutemen. Loro purtroppo tardarono ad arrivare, ma i cittadini cercarono comunque di eseguire gli ordini del sindaco per prepararsi ad un eventuale attacco. Nel frattempo, dei Gunner avevano provato ad entrare di nascosto in città. Dei cittadini se ne erano accorti e provarono a mandarli via senza successo. Ma in quel momento, proprio mentre i Gunner stavano iniziando a farsi strada, sono arrivati i Minutemen. Non pensate però fossero tanti. Erano solamente un piccolo gruppo staccatosi dagli altri membri del Commonwealth. A loro capo c'era il colonnello Ezra Hollis. Grazie a lui e la sua squadra, i Gunner che stavano provando ad entrare furono fermati. Infatti, i Minutemen fecero fuori un terzo di quei Gunner, di cui solamente una dozzina riuscì a scappare. Una battaglia vinta. Il colonnello Hollis però non perdette tempo. Subito iniziò ad aiutare le persone a fortificare la città. Il sindaco era così contento che aveva le lacrime e offrì la sua casa come luogo di riparo per i Minutemen appena arrivati. Il tanto memato Preston aiutò i residenti a costruire i muri. Sturges, che conosceva i gatti atomici, era entrato in possesso di due armature atomiche a cui tentava di ristabilire la funzionalità, siccome ci sa fare con le riparazioni. Per questo qui nella chiesa c'è una postazione per armature atomiche e per questo le hanno ora i due capi dei Gunner che vi ho mostrato. In realtà le hanno riparate loro dopo la conquista della città. Sturges non aveva fatto in tempo. Ah, a proposito, curiosità già che ci sono riguardo Sturges. Lui è un sintetico. Anche se non si può uccidere nel gioco in quanto personaggio essenziale, se fatto tramite i trucchi, potremmo vedere che possiede appunto un componente da sintetico. Spero di non avervi rovinato troppo la giornata. Ripartendo da Quincy, June e Marcy erano stupiti dal fatto che la visione di mamma Murphy si fosse rivelata vera e si scusarono con lei. Loro due stanno insieme e al momento dell'attacco avevano un figlio di nome Kyle che dopo aver visto l'impresa eroica dei Minutemen voleva diventare uno di loro con il papà June che non era proprio contento di questa cosa perché i Minutemen non erano più forti come un tempo. Marcy, d'altro canto, era davvero preoccupata riguardo al numero di persone che sono arrivata ad aiutare la città perché nel caso i Gunner che erano scappati fossero tornati con altri loro scagnozzi quei Minutemen potevano non essere di nuovo sufficienti. Riguardo a ciò, il colonnello Hollis sosteneva che sarebbero arrivati altri rinforzi perché aveva mandato una richiesta di aiuto. Le preoccupazioni di Marcy purtroppo però si rivelarono vere. I Gunner i giorni successivi continuarono ad attaccare ma la città di Quincy aveva abbastanza cibo e scorte per prenderli a sfinimento. Hollis diede il compito a Sturges di costruire le passerelle tra i tetti perché nel caso i Gunner fossero entrati definitivamente si poteva in questo modo attaccarli anche dall'alto. C'era solo un problema però i rinforzi in cui il colonnello Hollis sperava al passare dei giorni non arrivavano. Kyle, il figlio di June Marcy andava con il Minutemen a fare pattugliamenti ma un giorno si beccò una pallottola nella gamba. Non era una ferita mortale ma non avrebbe più camminato come prima da quel momento. Qualche giorno dopo un uomo arrivò ai cancelli della città. Era uno di loro, un veterano dei Minutemen e si chiamava Clint. La città aveva speranze. Chissà cosa era venuto a dire. Quando il colonnello Hollis ci parlò purtroppo Clint gli disse che sarebbe stato dalla parte dei Gunner come loro comandante. Era lì per contrattare la resa dei Minutemen e certamente Hollis rifiutò. Gli disse sostanzialmente di non farsi più vedere ma ora sapeva che siccome il traditore aveva esperienza nei combattimenti e l'avrebbe decisamente condivisa con i nemici i protettori della città dovevano prepararsi a tutto. Quella notte i Gunner attaccarono ancora sotto comando di Clint. Si impadronirono dell'autostrada sopra la città ma come? Con una buona inventiva perché i Minutemen non erano preparati ad un attacco dall'alto. Fecero quindi esplodere parte dell'autostrada per usarla poi come rampa per salirci e iniziare ad attaccare da sopra. Preston radunò tutti gli abitanti che poteva e li portò fuori dalla città. I Minutemen rimanenti furono spazzati via e quando i Gunner si impadroninano di Quincy scoprirono poi che Preston era andato via insieme ad altre poche decine di persone e Clint ordinò di inseguirli. Il colonnello Hollis era rimasto ed è stato preso. Clint voleva accogliere l'occasione per dimostrare ai Gunner che lui davvero stava dalla loro parte. Puntò la pistola su Hollis e sparò. I Minutemen una volta erano forti. Protessero Diamond City dai supermutanti ad esempio. Poi però cosa accadde? L'ultimo generale dei Minutemen Joe Baker morì nel 2282 ma non fu mai concordato chi dovesse essere il suo successore. Dopo la sua morte le rivalità tra i diversi gruppi di Minutemen iniziarono a causare lotte e disorganizzazione. Disorganizzazione che abbiamo visto qui. Disorganizzazione che ha portato Clint a tradirli, i Gunners a prendere Quincy, alla morte di Hollis e all'inseguimento di Preston. I corpi degli abitanti morti di Quincy furono bruciati in massa e ne vediamo purtroppo la testimonianza. Siccome in Fallout ci sono spesso storie all'interno di altre storie, vi dico una cosa riguardo il figlio di June Marcy, Kyle. Lui potrebbe essere morto durante l'attacco ma a me piace pensare anche che potrebbe essere morto prima che i Gunner entrassero perché a Quincy c'è un piccolo cimitero con una tomba scavata da poco. Per i Gunner non andò tutto rosa e fiori come si può invece pensare e non mi riferisco solo al fatto che siamo passati noi di qui. Tessa non andava d'accordo con Clint. Non si fidava di lui. È normale infatti che pensasse che come aveva tradito i Minutemen avrebbe potuto poi tradire anche loro. Si scopre tramite le note che ha lasciato che lei aveva dei sentimenti per Baker e parlò a lui di questa sua preoccupazione riguardo Clint. È anche poco contenta che i Gunner mandati a inseguire Preston fino a Jamaica Plain non siano riusciti a prenderli. Anzi, avevano pure subito perdite. Clint di questo non si era preoccupato troppo e sosteneva che Tessa pensasse ancora come un predone. Lui alla fine riteneva che pochi civili e Preston non avrebbero mai più dato problemi. Baker però le rispose di stare attenta e non parlare troppo minacciandola dicendo che lei altrimenti sarà un esempio del fatto che non bisogna mettersi contro Clint. Da quel momento ovviamente Tessa ha ben ripensato ai suoi sentimenti riguardo Baker. A Tessa non andava giù che Clint fosse praticamente l'ultimo arrivato e visto il suo successo dell'operazione a Quincy il capitano Wes dal quartier generale dei Gunner con cui Clint si era messo in contatto via radio aveva fornito all'ex Minutemen la carica di tenente mentre Tessa era Gunner da più tempo e non aveva mai ricevuto cariche importanti. Clint risorse l'insubordinazione di Tessa facendole fare lavori e mandandola spesso in ricognizione per tenerla occupata. Un dettaglio è che tutti tra i Gunner principali hanno tatuato il loro gruppo sanguigno sulla fronte. Tra l'altro domandare a Clint di tatuarselo è stato un modo per confermare ancora di più che fosse davvero parte dei Gunner. Il capitano Wes dietro le Quinte aveva quindi fatto un accordo con Clint. Lui avrebbe fornito a un membro dei Minutemen il grado di tenente e delle truppe dei Gunner da comandare in cambio della presa di Quincy. Prima ho detto che è stata la disorganizzazione dei Minutemen a portare Clint a tradirli data dal fatto che non fossero più potenti come quando vi era entrato. Ma in realtà lui è stato sempre diverso da loro in termini di pensieri. Per Clint i Gunner avevano la forza necessaria ad imporre l'ordine, mentre i Minutemen non più. Loro sarebbero stati ancora più perduti senza il colonnello Hollis, ultimo leader di valore, secondo Clint. Clint pensava che i Minutemen sarebbero finiti e che Preston non sarebbe mai più stato una minaccia. Ma Preston trovò noi. Noi giocatori è praticamente certo che consci o meno saremmo arrivati a Quincy e non avremo risparmiato i Gunner. Questo è stato l'errore che ha portato Clint alla morte. Un po' come la famosa frase del battito d'ali di una farfalla, una successione di eventi ha portato Preston a riuscire a fuggire da Quincy e chiedere a noi di aiutarlo a rimettere in sesto i Minutemen. Quindi, per finire con una risata, è in buonissima parte a causa di Clint, questo Minutemen traditore, che Preston è diventato sostanzialmente un meme. A tutti, alla prossima. Grazie a tutti.